Io faccio la differenza e ho scelto Make the Difference perché credo in quello che faccio. Devo dire che l'ossessione, l'ostinazione, la ripetizione nella ricerca di alcune differenze che poi naturalmente sorgeranno sorprendendo le aspettative, sono quello che più mi carica quando sono nel mio studio, cioè la sorpresa, anche la casualità di alcuni accadimenti rappresenta sempre una nuova scoperta.